Qua non c'è nessuno Uno, due, tre, prova, prova, chissà che mi chiederanno oggi Provo a richiamarli Qua non risponde nessuno Una bella foto me la faccio da solo Vabbè, mi mando un messaggio O questo Vabbè ragazzi, mi aspettavo una presentazione figa come avete fatto con gli altri Ma non c'è nessuno, mi presento da solo Sono De Scuriale, il nuovo attaccante del Catanzaro Molto contento, non vedo l'ora di iniziare Un saluto a tutti i tifosi giallorossi E ci vediamo in campo Grazie Grazie Grazie